Arrestati dalla polizia Montecatini su disposizione della direzione distrettuale antimafia due fratelli originari di Catania di 62 e 57 anni, ritenuti responsabili di aver aiutato a sottrarsi al carcere, l'ex latitante catanese Concetto Bonaccorsi, 59enne capo dell'omonima Cosca. Il boss condannato all'ergastolo per omicidio aggravato in concorso, associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, fu arrestato dalla squadra mobile di Catania nell'aprile 2017 in Toscana a massa e cozzile al termine di laboriose indagini. Per entrambi i fratelli finiti nel mirino della DDA l'accusa è di concorso in procurata in osservanza di pena, aggravata dalla finalità di favorire un'associazione di stampo mafioso, ma il provvedimento è stato eseguito solo a carico di uno dei due destinatari, il 57enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e nell'ambito degli stupefacenti, visto che il fratello maggiore attualmente è sottoposto a un provvedimento restrittivo in Argentina. Le indagini hanno ricostruito la rete di personaggi che hanno consentito all'ex latitante catanese di trasferirsi al tempo in Toscana, fornendogli supporto sia logistico che di natura economica.